Sono Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e primo medico italiano certificato in medicina anti-aging. Prova a immaginarti per un secondo l'ingranaggio di un bellissimo orologio con tutti i suoi micro pezzi piccolissimi assemblati con tantissima attenzione da un mastro orologiaio svizzero di altissima qualità. Prova a immaginarti di versarci sopra un barattolo di miele e immaginati un secondo che cosa accadrebbe. In pochissimo tempo l'intero meccanismo si incepperebbe perché viene letteralmente appiccicato in ogni sua componente dallo zucchero contenuto nel miele. Ora non voglio sembrarti troppo tragico ma questo in misura ovviamente meno acuta e più graduale è un po' quello che succede nel nostro organismo quando mangiamo troppo zucchero. Tieni presente che si stima che negli Stati Uniti una persona mangi circa 70 kg di zucchero in un anno. In Italia non siamo fortunatamente a quei livelli ma non siamo nemmeno lontanissimi e se sommiamo allo zucchero che aggiungiamo a ogni caffè, al tè, allo zucchero contenuto nei dolci, sommiamo anche tutta la grande quantità di cereali raffinati che noi in Italia invece tendiamo a mangiare veramente troppo, la pizza, il pane, la pasta, le patate, i tramezzini, i panini eccetera eccetera, viene fuori una quantità di zucchero veramente troppo elevata per il nostro organismo. Ora il nostro organismo non tollera bene questo fenomeno, il continuo innalzamento della glicemia causa una sovrapproduzione di insulina e a un certo punto questo meccanismo di aumento della glicemia, aumento dell'insulina tende a stararsi e si sviluppa quello che si chiama la sindrome metabolica cioè un insulino resistenza nel senso che il corpo deve produrre sempre più insulina, l'insulina funziona male e a un certo punto si va verso la sindrome metabolica che è un'apri porta poi per il diabete e tante altre problematiche. Uno dei fenomeni sottostanti a questa costante presenza di troppo zucchero nel sangue si chiama glicazione. La glicazione è proprio questo legame dello zucchero con le proteine corporee che porta a una alterazione della loro funzionalità e della loro struttura nel vero senso della parola. Guarda un esempio molto molto semplice di questo è quello che accade sulla pelle delle persone. Tralasciamo le spese per tutta la cura della pelle per carità lecite ma se uno ci pensasse un attimo alla fine la cura della pelle avviene soprattutto dall'interno. Parlo di glicazione pelle perché? Ma perché in realtà lo zucchero che si lega in particolare al collagene e all'elastina distrugge la loro funzionalità ed è un enorme, un potentissimo acceleratore dell'invecchiamento cutaneo. Allora una delle prime cose da fare perché effettivamente la tua pelle invecchi meno è proprio quella di rinunciare allo zucchero o perlomeno di utilizzarlo in maniera molto attenta soltanto quando vale veramente la pena. Se vai alla festa di compleanno e c'è da mangiare la torta lo capisco ma se ogni giorno carichi il tuo organismo di zuccheri il problema diventa serio. La pelle è solo una delle manifestazioni di danno che lo zucchero crea. È forse quella più visibile ma tieni presente che quello che accade a collagene e elastina e che tu vedi sulla tua pelle in realtà accade anche in tutti gli altri tessuti anche in quelli che tu non osservi e non vedi. L'aglicazione in buona sostanza è un grande acceleratore del processo di invecchiamento assieme fondamentalmente ad altri due processi importanti che sono l'ossidazione cioè il danno da radicali liberi e l'infiammazione. A questo punto tu però ti starai sicuramente chiedendo ma il cervello e i muscoli non hanno bisogno di zuccheri. E la risposta è sì e no. Nel senso che sì il cervello e i muscoli utilizzano certamente zucchero come combustibile per le loro attività. Il muscolo quando l'intensità dell'attività è piuttosto elevata ha indubbiamente bisogno di utilizzare zuccheri. Il cervello in gran parte utilizza zuccheri sempre. Allora uno potrebbe dire beh lo zucchero fa bene proprio per questo. E in effetti è una delle cose che è stata detta per tanto tempo e che ha portato la gente a non stare sufficientemente attenta all'eccesso di zucchero. Allora dove sta il problema? In realtà è molto semplice. Il cervello e i muscoli utilizzano sì zucchero ma zucchero che viene prodotto dall'organismo attraverso la metabolizzazione di carboidrati complessi. Quindi di quei nutrienti che vengono dalla tua assunzione di verdura, di frutta, di cereali integrali, di tuberi, cioè tutti quegli alimenti che apportano sì carboidrati ma non necessariamente nella forma della zolletta di zucchero, del cucchiaino di zucchero, del dolce. Allora qui è stata un po' un'interpretazione diciamo leggermente ingannevole del problema, cioè da un certo punto di vista si è, se vogliamo, utilizzato una verità, cioè il cervello e i muscoli hanno bisogno di zuccheri, ma non per spiegare a fondo il meccanismo ma per sollecitare in sostanza le persone a consumare zucchero o perlomeno a non prestare sufficiente attenzione ai danni causati dallo zucchero stesso. Tieni presente che superata la fase, per fortuna, che è durata fin troppo di lotta a tutto campo contro i grassi e oggi tutti sappiamo benissimo che in realtà i grassi vanno tutelati, l'assunzione di grassi va assolutamente tutelata e non ridotta eccessivamente, fermo restando che ci sono grassi sani e grassi meno sani, oggi tutta l'attenzione in ambito nutrizionale si rivolge in realtà proprio all'abuso di zucchero perché senza dubbio ormai molti dati ci indicano che la quantità di zucchero e di carboidrati raffinati o meglio di cereali raffinati che abbiamo mangiato nelle ultime decadi è stata indubbiamente molto molto elevata ed è, non è l'unica ma è una delle cause della problematica di sovrappeso, sindrome metabolico, obesità che vediamo oggi anche per esempio nei bambini. Questo è successo fondamentalmente perché non abbiamo prestato abbastanza attenzione alla quantità di questi alimenti nella nostra dieta quotidiana ma anche logicamente perché dal dopoguerra ad oggi il nostro livello di attività fisica o meglio di lavoro fisico è andato veramente precipitando. Allora in una dimensione in cui il lavoro di una persona è prevalentemente fisico, la tolleranza ad un certo grado di introito di cereali anche raffinati ed eventualmente anche di zuccheri non fa bene comunque ma è sicuramente più accettabile. Quando accoppiamo un elevato utilizzo di cereali raffinati di zuccheri e una sedentarietà molto molto importante come quella tra l'altro della purtroppo della maggior parte degli italiani ecco che la sommatoria dei due effetti diventa molto molto pericolosa. Allora un primo passo per cominciare a correggere la propria alimentazione e allo stesso tempo un primo passo per fare qualcosa di concreto per rallentare il tuo processo di invecchiamento anche per quei distretti che più ti infastidiscono perché sono quelli che vedi quando ti guardi allo specchio, per esempio la pelle, è eliminare gli zuccheri dalla dieta quotidiana, tenersi la fetta di dolce, il gelato per quando c'è un'occasione speciale ma abituarsi a una dieta che sia esclusivamente fatta di alimenti privi di questo carico glicemico così potente che destabilizza il nostro metabolismo. Vanno tolti i cereali? No, i cereali integrali si possono assolutamente mangiare, la loro quantità varia a seconda dell'attività fisica che farai. Quindi un consiglio molto semplice da mettere in pratica anche da domani. Ogni settimana produco contenuti nuovi utili al miglioramento della tua prestazione psicofisica, della tua salute e in ultima analisi utili per vivere quello che io definisco una vita a pieno. Questi contenuti vengono prodotti sulla base di un'analisi molto ampia delle più avanzate ricerche a livello internazionale. Se ti è piaciuto il video che hai appena visto ti consiglio di fare tre semplicissime cose. La prima è iscriverti al mio canale YouTube, lo puoi fare seguendo il link che trovi qui e questo ti permetterà di ricevere ogni nuovo video che viene prodotto automaticamente. La seconda è di andare sul mio sito, lasciare la tua mail in modo tale da essere continuamente aggiornato sui nuovi articoli che scrivo e sui nuovi studi che analizzo e che ti propongo. La terza cosa è di andare sulla mia pagina Facebook e cliccare mi piace in modo tale da entrare in contatto con me nella vita quotidiana. Lì potremo scambiarci opinioni, pareri, potremo discutere di vari temi. Tre semplici cose, se ti è piaciuto il video che hai appena visto, falle così restiamo in contatto.